Legittime ma non retroattive, il Tarpuglia ha messo la parola fine ai dubbi emersi già il 31 agosto del 2015 sulla validità degli aumenti delle aliquote comunali ad Andria. Si era da poco insediato il nuovo Consiglio Comunale, le elezioni si erano tenute a giugno e videro rieletto sindaco l'avvocato Nicola Giorgino e per questo non venne rispettato il termine del 31 luglio per l'approvazione delle aliquote IMU, Tari e Tasi, che vennero approvate invece il 31 agosto. Si paventò allora che l'approvazione potesse essere illegittima e che si sarebbe dovuto applicare il regime di tassazione del 2014 che prevedeva aliquote più basse. Per il Tar invece quella approvazione è legittima ma non retroattiva, in sostanza gli aumenti di IMU e Tasi valgono dal 31 agosto in poi, non valgono per il periodo precedente dal 1 gennaio al 30 agosto del 2015, per il quale devono essere applicate le più basse tassazioni previste per il 2014. Ricalcolo e compensazione è quanto dovranno fare i dirigenti del Comune di Andria. Dal 1 gennaio al 31 agosto 2015 sono valide le delibere relativamente all'anno 2014, mentre le delibere adottate dal Consiglio Comunale sono valide a partire dal 31 agosto 2015 e per gli anni successivi. Il Comune comunque aveva già predisposto un fondo di accantonamento nel 2016 nell'ipotesi in cui fosse intervenuta una sentenza come intervenuta che nel caso peggiore avrebbe addirittura inficiato, annullato le delibere, dichiarate legittime interamente le delibere del Consiglio Comunale. Gli uffici provvederanno a fare tutte le verifiche del caso e poi determineranno eventualmente quelle che sono le somme da compensare e poi faremo una successiva comunicazione per verificare quanto è il gettito che bisogna corrispondere. Questa eventuale restituzione non riguarda l'Atari? L'Atari no, perché l'Atari non aveva subito un aumento. C'erano state soltanto delle variazioni delle aliquote all'interno del saldo che era rimasto invariato rispetto al 2014. Quello che era aumentata era la Tasi, che è la tassa sui servizi indivisibili, che era passato dall'1 al 2 per 1000 e l'Imu che era aumentata di 1,05, mentre il resto delle tariffe erano rimaste invariate. Faremo queste verifiche, dopodiché nel momento in cui abbiamo il saldo complessivo di quello che può essere l'eventuale gettito da compensare, verrà comunicato e formeremo anche le modalità per eventuali forme di compensazione, tenendo conto che essendo valide per gli anni 2016-2017, quindi gli anni successivi al 2015, chi non ha versato le aliquote dovute farebbe bene attraverso una forma di autoliquidazione e di ravvedimento per usare ad operare e a fare il versamento.